Durante la stagione secca, la mia famiglia non ha abbastanza da mangiare. Come facciamo a vivere senza cibo? La mia amica è stata data in sposa a soli 12 anni. Ho paura. Non voglio sposarmi prima di essere pronta. Sono solo dei bambini, ma le loro vite sono già piene di preoccupazioni. Il loro futuro è a rischio. Adotta un bambino a distanza con ActionAid e aiutala a trasformare la sua vita. L'adozione a distanza aiuta comunità interi ad avere cibo nutriente e acqua pulita e permette alle bambine di rimanere a scuola proteggendole da matrimoni e gravidanze precoci. Formerai un legame molto speciale con il bambino o la bambina che adotterai a distanza. Ti manderà lettere e foto che ti permetteranno di vedere quanto il tuo sostegno lo aiuti a vivere una vita più sana e felice. Vai su ActionAid.it e adotta subito un bambino a distanza. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.